Proroga di altri sei mesi dell'indagine per verificare le ipotesi di reato per corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato, falso ideologico e falso materiale per l'inchiesta sulla videosorveglianza ad Eboli. Coinvolti il sindaco Massimo Cariello, l'assessore Ennio Ginetti, il dirigente del settore patrimonio Lucia Rossi, il responsabile del settore manutenzione Achille Pirozzi, l'informatico Fabio Caglia ed il commerciante Gennaro Mastrolia. Tutto è partito dalle denunce dell'informatico, che ha fornito materiale documentale, telefonate, foto ai carabinieri e dalla Procura della Repubblica. Caglia, nella duplice veste di accusatore ed accusato, non avrebbe percepito il compenso pattuito di 23.000 euro circa per installare le telecamere sul territorio comunale. L'indagine avviata dal PM del Tribunale di Salerno Silvio Marco Guarriello ha ottenuto adesso dal GIP Alfonso Scermino la proroga semestrale. Grazie. Grazie. Grazie.